Perché la Disney sta stravolgendo i classici Disney? 3 marzo del 2010, nei cinema italiani esce il remake di uno dei più famosi cartoni animati della nostra infanzia, Alice in Wonderland. È basato sul romanzo di Lewis Carroll e sul classico Disney del 1951, Alice nel paese delle meraviglie, e la regia è di Tim Burton. Parla di una ragazzina convinta di essere pazza, che non comprende le rigide regole del suo mondo e soprattutto non riesce a dimenticare il sogno ricorrente che la persegui da fin da bambina nel quale si ritrova catapultata in un mondo delle meraviglie, dove gli animali sanno parlare. Un pomeriggio, durante una festa, mentre sta per fidanzarsi con l'ottimo partito che sua madre ha scelto per lei, le si materializza davanti agli occhi una delle visioni della sua infanzia, un coniglio bianco con tanto di orologio e panciotto. Ad Alice non resta che seguirlo e ritrovarsi in un mondo che credeva solo di aver sognato. Complice un cast di ottimo livello, il film registra buoni incassi, ma a colpire gli spettatori è il come è stato realizzato, con un mix di tecnologie visive e attori in carne e ossa. È l'inizio del periodo dei live action Disney e negli anni arrivano La Bella Addormentata, Cenerentola, Il Libro della Giungla, La Bella e la Bestia, Winnie the Pooh, Dumbo, Aladdin, Il Re Leone, Lily e il Vagabondo, Mulan, La Carica dei 101 e Pinocchio. La loro peculiarità, almeno all'inizio, è di restare il più fedele possibile all'originale. Emblematica la scena iniziale della Bella e la Bestia, con le stesse posizioni dei personaggi sulla scena, la stessa scenografia, gli stessi colori e le movenze degli attori in carne e ossa. Poi, a un certo punto, tutto cambia. C'è uno strappo, la sirenetta diventa nera, trilli pure, le canzoni vengono modificate, e tutto il mondo animato con cui siamo cresciuti viene stravolto completamente. Ma perché la Disney si sta concentrando più sul rifacimento di vecchi classici, piuttosto che raccontare storie nuove? Sono tante le opinioni a riguardo. Da una parte c'è chi dice che è un modo per far conoscere anche vecchie storie ad un pubblico più giovane. Basti pensare che Biancaneve ha quasi 80 anni. Dall'altra c'è chi condanna questo tipo di film come una semplice strategia per fare soldi. Rifare storie che sono già noti al pubblico, infatti, riporterebbe in sala sia chi le ha viste la prima volta, sia il nuovo pubblico e permetterebbe alla Disney di non rischiare in qualcosa che non porterebbe denaro. In realtà, però, Disney aveva già iniziato ad apportare modifiche ai classici ben prima della sirenetta. Con Maleficent e Crudelia, ad esempio, ha voluto esplorare le storie della bella addormentata e la carica dei 101 dal punto di vista dei cattivi. Le modifiche apportate al remake di Aladdin sono notevoli in positivo e in negativo. La canzone aggiunta per Jasmine, ad esempio, anche se discutibile dal punto di vista del doppiaggio, ha abbellito il personaggio, portandolo al passo con i tempi, la prima donna che diventa sultano, e cancellando alcuni riferimenti maschilisti e razzisti che invece negli anni 90 erano del tutto normali. Prega là di non darti figlie femmine, tanto per fare un esempio. Dunque, il pubblico si divide tra chi dice no ai live action, chi li approva completamente e chi solo secondo alcune condizioni. Un elemento che influisce molto sul giudizio degli spettatori è quanto il remake sia fedele all'originale. A quanto pare, però, i nuovi film sono costretti ad apportare modifiche rispetto all'originale di molti anni fa. Mi riferisco a titoli del calibro di Peter Pan, La Sirenetta, appunto, Trilli, Biancaneve. Sono titoli che si discosteranno moltissimo dall'originale, a partire dalla fisionomia dei personaggi. Complici le polemiche iniziate lo scorso anno con i Golden Globe sulla poca inclusione di attori e film nella giuria e tra i candidati, questi film cercano di essere il più inclusivi possibile e di adattarsi alle nuove tendenze, se vogliamo, che rispecchiano i tempi moderni. Erano molti gli stereotipi razziali che troviamo nei classici Disney e nella Sirenetta, per esempio, l'attrice Al Bailey è stata scelta proprio per andare contro ed eliminare quegli stereotipi che avevano contraddistinto il primo classico Disney della Sirenetta nel 1989. Lo ha detto anche Yara Shahidi, che interpreta Trilli in Peter Pan e Wendy. Il film è stato fatto apposta per cancellare ed eliminare tutti gli stereotipi razziali, maschilisti e machisti che avevamo visto negli anni precedenti ai live action Disney e di dare alle nuove generazioni una visione più ampia di ciò che è il mondo e quindi anche il mondo animato. Insomma, le polemiche sui live action Disney sono destinate a continuare, ma voglio sapere voi cosa ne pensate di questo argomento. Scrivetemi nei commenti da che parte state, se siete d'accordo, se vi piacciono i live action Disney e se siete d'accordo con la scelta della Disney di rifare tutti i classici che ci hanno appassionato e ci hanno fatto innamorare negli anni 80 e 90. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, c'è a creazione, e mettete mi piace su Facebook e seguiteci su Instagram, dove tutti i giorni parliamo di news e facciamo curiosità, raccontiamo storie che riguardano il mondo del cinema e delle serie TV. Al prossimo video!